Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nuova lezione di storia. Oggi parleremo della seconda guerra mondiale, come si può notare dal titolo, e siamo a pagina 258 del vostro libro. Per introdurre l'argomento, come al solito, possiamo dare un'occhiata a un breve video introduttivo. Il primo settembre 1939, Hitler ordinò l'invasione della Polonia. Due giorni dopo, Francia e Regno Unito dichiararono guerra alla Germania. Era l'inizio della seconda guerra mondiale. I tedeschi adottarono una nuova tattica militare, chiamata Guerra Lampo, che garantì alla Germania una serie di rapide vittorie. Guerra Lampo. Con questa espressione, i tedeschi indicarono la loro strategia di guerra nelle prime fasi della seconda guerra mondiale. Essa aveva come obiettivo una rapida soluzione militare del conflitto, grazie all'uso combinato di mezzi corazzati di terra e bombardamenti aerei. In risposta all'attacco tedesco, Stalin avvicinò le sue truppe al confine polacco e alle repubbliche baltiche, che poi occupò definitivamente insieme alla Finlandia nei primi mesi dell'anno successivo. Nella primavera del 1940, la Germania attaccò Norvegia e Danimarca. In seguito, per aggirare le linee difensive francesi, i tedeschi conquistarono Olanda, Belgio, Lussemburgo e a metà giugno 1940 entrarono vittoriosi a Parigi. La Francia venne divisa in due. La parte settentrionale fu posta sotto il diretto controllo tedesco. Nella parte meridionale venne invece proclamata una repubblica alleata della Germania, un capitale a Vichy, guidata dal maresciallo Philippe Ten. Nel frattempo, il generale francese Charles de Gaulle si rifugiò a Londra e di qui cominciò a organizzare la resistenza del suo popolo e delle truppe che non si erano arrese all'invasione tedesca. Nel luglio dello stesso anno, i tedeschi sferrarono un massiccio attacco aereo contro il Regno Unito, senza tuttavia riuscire a conquistare il paese. Si trattò del loro primo in successo militare. Nel giugno del 1940, Mussolini decise di entrare in guerra a fianco dell'alleato tedesco. Nel 1939, l'Italia aveva dichiarato la non belligeranza. Si era cioè rifiutata di prendere parte alla guerra perché priva di un'adeguata preparazione militare. Tuttavia, spinto dalle rapide vittorie di Hitler, Mussolini decise di unirsi alle operazioni belliche. Ma in realtà le campagne avviate dall'Italia in Africa, in Grecia e nei Balcani si rivelarono tutte fallimentari. Il 21 giugno 1941, Hitler diede avvio alla cosiddetta Operazione Barbarossa, il piano d'attacco per conquistare l'Unione Sovietica. Inizialmente l'avanzata tedesca fu molto rapida e le truppe arrivarono a pochi chilometri da Mosca. Giunto l'inverno però, l'esercito di Hitler si ritrovò a combattere un nemico in più, il gelido inverno russo. Di fatto quindi le operazioni militari si bloccarono e l'Armata Rossa ebbe il tempo di organizzare una controoffensiva. Il 7 dicembre 1941, il Giappone, che l'anno prima aveva aderito al Patto d'Acciaio, rinominato quindi Patto Tripartito, o Asse Roma-Berlino-Tokio, sferrò un attacco a sorpresa contro la base militare di Pearl Harbor, distruggendo buona parte della flotta americana nel Pacifico. Di conseguenza gli Stati Uniti, che avevano già sottoscritto insieme all'Inghilterra un documento antinazista, noto come Carta Atlantica, entrarono nel conflitto contro le forze dell'asse. La guerra a questo punto divenne realmente planetaria. Nel 1942 i vertici dello Stato tedesco si riunirono nella conferenza di Wannsee. Qui pianificarono la soluzione finale della questione ebraica, cioè stabilirono che gli ebrei, considerati da Hitler nemici della razza ariana e perseguitati in vari modi fin dall'affermazione del regime nazista, dovessero essere eliminati. Già prima della guerra, il Reich aveva creato il sistema dei campi di concentramento, o lager, in cui venivano imprigionati nemici del regime e oppositori politici. Negli anni successivi poi cominciarono a esservi rinchiusi anche gli ebrei. Infine, dopo l'approvazione della soluzione finale, diversi campi di lavoro furono trasformati in campi di sterminio. Gli ebrei deportati da tutta Europa vi giungevano su treni sovraccarichi, dopo viaggi lunghi ed estenuanti. Venivano quindi condotti alle camere a gas, dove morivano nel giro di pochissimo tempo, e poi bruciati nei forni crematori. Solamente ad Auschwitz, uno dei campi più tristemente noti, fra il 1942 e il 1944 morì oltre un milione di persone. Nel genocidio perpetrato dai nazisti, che prende il nome ebraico di Shoah, cioè catastrofe, persero la vita circa 6 milioni di persone. A metà del 1942 il Giappone controllava molte isole del Pacifico e buona parte del sud-est asiatico. Sebbene si presentasse come liberatore dal dominio coloniale europeo, il paese nipponico attuò ben presto una politica imperialista che non tardò a provocare la formazione di gruppi nazionalistici che combattevano il dominio giapponese. In Europa la situazione era analoga. La Germania dominava praticamente tutto il continente. Fra la popolazione dei paesi occupati si diffusero due atteggiamenti opposti. Li fu chi si oppose agli invasori, dando vita a gruppi che conducevano una lotta armata e azioni di sabotaggio contro un nemico fascista e nazista e che collaborò con i tedeschi, spesso per ottenere vantaggi personali, più che per convinzione ideologica. Il primo fenomeno prese il nome di resistenza e il secondo fu chiamato collaborazionismo. Collaborazionismo Collaborazione tra i cittadini di uno stato invaso e le autorità di occupazione nemiche. Bene ragazzi, allora, tornando a noi... No, questo non c'entra niente. Ecco, bene. Torniamo al nostro libro di storie. Vi dicevamo, la prima fase della guerra, la Germania all'attacco. Vi ho preparato un brevissimo riassunto, se lo trovo... Scusate un momento. Ecco, dicevo, un brevissimo schema sulle cause della seconda guerra mondiale, così facciamo anche un pochino di ripasso. Allora, innanzitutto, vabbè, lo sappiamo, c'è la politica aggressiva della Germania, che Hitler aveva cominciato con l'occupazione della Renania, la sua militarizzazione, l'annessione dell'Austria, vi ricordate, con quel referendum, poi alla fine, l'annessione dei Sudeti, che erano quella parte della Cicoslovacchia che parlava lingua tedesca, e poi l'occupazione di Bohemia e Moravia, con l'avvallo di Mussolini, del presidente francese e del presidente inglese, alla conferenza di Monaco. E poi, Mussolini, ci ricordiamo, che aveva attaccato e occupato l'Etiopia nel 1939, ed era stato espulso dalla Società delle Nazioni. Tra l'altro, come causa alla base di questa Seconda Guerra Mondiale, c'è quella che avevamo già ricordato, la politica dell'appeasement, cioè la pacificazione, la pace a qualunque costo. Cioè, se Hitler desidera, per mantenere la pace, i Sudeti, perché non darglieli? Se Hitler desidera la Cicoslovacchia, perché no? La pace ad ogni costo, quindi. L'incubo degli statisti inglesi e francesi di quel periodo era lo scoppio di una nuova guerra mondiale, e quindi si voleva fare di tutto per evitarla, e se le davano tutte vinte a Hitler. Tra l'altro, come al solito, come vi ho già ricordato, di bocca in bocca passava tra le classi dirigenti occidentali la frase «Meglio Hitler di Stalin». Comunque Hitler era considerato un baluardo anticomunista che separava l'Europa civile dalla Russia, non soltanto comunista, la Russia bolshevica, è quella che voleva sovvertire l'ordine costituito, eccetera, eccetera. Bene, dicevo ragazzi, la prima fase della guerra, la Germania all'attacco. Quindi, per tutte queste cause che abbiamo visto, e anche dopo la conferenza del professor Barbero che vi ho detto di guardare, le cause della seconda guerra mondiale, il primo settembre del 39, i tedeschi abbattono gli sbarramenti che sono posti al confine tra Germania e Polonia e invadono la Polonia. Qui vi ho segnato appunto l'appeasement, e nonostante questo appisement, la Francia e l'Inghilterra in quelle settimane si dichiarano pronte a garantire l'integrità della Polonia, perché ormai hanno capito che Hitler non si sarebbe fermato di fronte a nulla. Il suo era un gioco continuamente al rilancio e quindi loro si definiscono pronte, si dichiarano pronte a difendere la Polonia in caso d'attacco. Non si sa da chi, ovviamente, però loro sono pronti. Tra l'altro Hitler, vi ho segnato ancora qui, che aveva fatto un'alleanza con Stalin, quindi il patto Molotov-Ribbentrop, il ministro degli esteri russo, il ministro degli esteri tedesco, firmato nel 39, che garantiva una tranquillità, un accordo tra queste due grandi potenze e nei protocolli segreti prevedeva la divisione, la spartizione della Polonia a ovest dalla Germania e a est dall'Unione Sovietica. Poi vedremo che Hitler, dopo i primi tempi, si rivolterà contro Stalin e attaccherà anche la Russia. Ma andiamo con ordine. Abbiamo preparato qui, ragazzi, l'immagine, uffa, sempre questa qui, ecco, l'immagine dell'invasione della Polonia. Questi sono i tolazzi tedeschi che rimuovono la barriera al confine. L'avanzata tedesca è un'avanzata estremamente rapida, travolgente. In poche settimane la Polonia è conquistata. Contro questo Stato, male armato, con un esercito obsoleto, anche se agguerrito, con un regime di destra che, insomma, pensava di poter tenere testa al regime nazista, vi dicevo, contro questo paese si abbatte la forza tremenda del più grande esercito che l'umanità abbia mai conosciuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che i paesi attaccati dai nazisti si trovano a far fronte, ad esempio, all'invasione di questi che ha armati estremamente moderni di ultimissimo modello, corazzati tra i migliori, anzi, assolutamente i migliori che l'industria bellica poteva offrire. Questo è il Panzer terzo modello che rimane in uso fino al 42, poi rimpiazzato da questo ancora più corazzato, ancora più temibile. per gli avversari. Questo è il modello Panther, Pantera. Qui lo possiamo vedere in azione. E poi la Germania poteva contare su una aviazione estremamente efficiente. la Luftwaffe in tedesco significa l'arma dell'aria. Era comandata da questo signore qui, Hermann Göring, e poteva contare su migliaia di aerei estremamente moderni, pronti, come vedete, a essere caricati, stivati di bombe da sganciare sul nemico. Questo era uno dei capisaldi della guerra lampo tedesca, cioè l'uso massiccio di aerei per bombardare i nemici, scatenare il terrore, interrompere le linee di comunicazione, creare confusione nell'esercito, morti civili, quindi terrorismo sui civili, e i cari armati che portavano avanti il combattimento a terra. Dopodiché sarebbe arrivata la fanteria a far piazza pulita dell'ultima resistenza. Addirittura il primo aereo a reazione è stato utilizzato dall'aviazione tedesca. Questo qui, il Messerschmitt 262, è stato appunto il primo aereo a reazione della storia. Vedete, non ha più le eliche come quelle che abbiamo visto prima. Questi sono i primi motori a reazione. Bene, qui di nuovo l'immagine dell'invasione della Polonia. Questo vuol dire, ragazzi, che la Polonia si trova invasa da quasi due milioni di soldati tedeschi, con 2.600 armati e 2.000 aerei della Luftwaffe che aggrediscono la Polonia in una manovra tenaglia da nord a sud e in poche settimane con questo blitzkrieg o questa guerra lampo giungono a Varsavia e la Polonia nel 27 settembre del 39 sempre capitola, firma la resa. poi le mire di Hitler si spostano verso nord intanto l'unione sovietica a est invade la Polonia e si prende la sua fetta e in più i sovietici attaccano anche la Finlandia intanto Hitler dopo alcuni mesi di stallo vi dicevo ecco punta le sue mire verso ovest verso la Francia qui ragazzi vi ho preparato questa cartina che indica le fortificazioni francesi è importante da ricordare questo perché i francesi dopo l'esperienza della prima guerra mondiale avevano costruito centinaia e centinaia di chilometri di fortificazioni lungo il confine con la Germania questo confine questa fortificazione si chiamava la linea Maginot dal nome del politico che l'aveva che l'aveva preparata dall'altra parte d'altro canto si ergeva la linea Siegfriedo che era la linea delle difese tedesche appunto contro la Francia questa è la situazione quindi Germania e Francia sono separati da queste barriere praticamente impenetrabili torniamo al nostro libro infatti questa linea Maginot correva per 400 km lungo la frontiera ma le truppe di Hitler cosa fanno? passano attraverso il Belgio il Lussemburgo e l'Olanda e dilagano nelle pianure francesi un momento solo ragazzi che vi trovo la mappa ecco questa è la cartina ragazzi questa segnata in rosso è la foresta dell'Erdène i generali tedeschi hanno la geniale idea di aggirare la linea Maginot che ripetiamolo delimita questo confine qui difende questo confine qui attraversare la foresta dell'Erdène che a quei tempi sembrava un'impresa impossibile perché è una foresta non con grandi ivette comunque un territorio montuoso ricco appunto di vegetazione difficilmente praticabile per dei mezzi corazzati l'esercito tedesco riesce a compiere quest'impresa e molto rapidamente dilaga nella campagna francese e riesce a tagliare in due l'esercito francese l'esercito francese era qui e con una manovra molto ardita e molto veloce si dirige verso la manica l'esercito tedesco e taglia in questa sacca l'esercito francese lo vediamo meglio anche sul vostro libro ecco qui la Germania supera la linea Maginot attraversa il Lussemburgo il Belgio e attraverso appunto la foresta dell'Erdène queste linee rosse sono i movimenti dell'armate tedesche e intrappolano prima nel territorio arancione poi nel territorio giallo e poi sempre più stretto sempre più stretto in quello verde e in quello blu tutto ciò che resta dell'esercito francese e anche decine di migliaia di soldati inglesi che erano andati ad aiutare i francesi ok qui vi ho segnato ragazzi questa questa cittadina Dunkirk probabilmente qualcuno di voi ha visto il film che è uscito qualche mese fa Dunkirk è una cittadina che è diventata famosa appunto perché è stata l'ultimo porto nelle mani degli inglesi e dei francesi prima di essere definitivamente sconfitti scacciati dal continente dai tedeschi tutto quello che restava dell'esercito inglese francese si era radunato qui a Dunkirk e l'Inghilterra in questo epico episodio della seconda guerra mondiale riesce a mobilitare tutta la marina tutti gli yacht i traghetti le barche dei pescatori per andare da Dover a Dunkirk a caricare quanti? 400.000 soldati inglesi e francesi ed evacuarli e salvare così l'esercito dalla sconfitta completa vi ho preparato qui ecco il nome di quest'operazione che trae in salvo 400.000 soldati inglesi e francesi è l'operazione Dynamo Dynamo perché semplicemente era stata studiata in un bunker del governo inglese che ospitava una Dynamo come quella delle biciclette che produce elettricità per produrre l'elettricità e quindi l'hanno chiamata operazione Dynamo queste sono alcune fotografie vedete qui c'è l'avanzata dell'esercito tedesco e tutte queste fraccette rosse che chiudono questi 400.000 ragazzi questi soldati inglesi e francesi in questa sacca disperata la situazione è disperata vengono mobilitate vedete sotto l'incessante fuoco della Luftwaffe e i cannoneggiamenti dell'artiglieria tedesca vengono mobilitate tutte le imbarcazioni disponibili ripeto il traghetto il peschereccio eccetera lo yacht la barchetta vela da tre posti per andare a raccogliere questi soldati e portarli in salvo dopo ecco qui un'immagine molto drammatica di una nave che affonda vedete le fasi concitate di questa di questa battaglia apriamo una piccola parentesi ma molto significativa ragazzi sulla situazione in Inghilterra in Inghilterra c'era prima un primo ministro che si chiamava Chamberlain che aveva le aveva date vinte tutte a Hitler si era dimostrato il campione di quella politica dell'appism della pacificazione della pace a tutti i costi quando scoppia la guerra viene sfiduciato dal Parlamento Chamberlain e subito viene nominato al suo posto il primo ministro Winston Churchill Winston Churchill che si era sempre dimostrato un fiero avversario di Hitler e aveva sempre votato per fermare Hitler non per dargli la secoslovacca ai suddetti Danzig eccetera qui ti vi dicevo viene nominato primo ministro e subito dopo l'operazione di Dunkirk pronuncia questo straordinario straordinario discorso alla Camera dei Comuni che adesso ci sentiamo dura due minuti ragazzi ma è davvero un documento eccezionale è tratto da un film un miracolo di partecipazione ottenuto col valore scusate io ascolto sempre a velocità doppia un miracolo di partecipazione ottenuto col valore e la perseveranza è sotto gli occhi di tutti noi la Marina Reale con l'aiuto di marinai civili e senza un nome grazie all'impiego di migliaia di imbarcazioni di ogni genere ha sottratto più di 335.000 uomini alle fauci della morte e del disonore riportandoli alla loro patria ma dobbiamo essere molto cauti nell'assegnare a questa impresa gli attributi della vittoria le guerre non si vincono con le evacuazioni la gioia per lo scampato pericolo dei nostri uomini che hanno dovuto sopportare una settimana di agonia non deve nascondere ai nostri occhi che ciò che è accaduto in Francia e in Belgio è stata una colossale disfatta militare ci hanno riferito che Herr Hitler ha un piano per invadere le isole britanniche idea già stata di altro in passato ma io ho piena fiducia che se tutti faremo il nostro dovere se nulla verrà trascurato e tutto verrà disposto per il meglio una volta di più dimostreremo a noi stessi di saper difendere la nostra amata isola e di saper sopravvivere alla minaccia della tirannia se necessario per anni e se necessario da soli anche se vaste regioni dell'Europa e molti antichi e importanti stati sono caduti o potranno cadere nella morsa della Gestapo e sotto l'odioso dominio dell'apparato tedesco noi non cederemo di un passo andremo fino in fondo combatteremo sui mari e sugli oceani e combatteremo con crescente fiducia e crescente forza nei cieli e difenderemo la nostra isola qualunque sia il costo combatteremo sulle spiagge combatteremo nelle brughiere combatteremo sui frati erbosi nelle strade sui nostri monti e non ci arrenderemo mai dicevo ovviamente è un film però le parole sono quelle originali ok come si conclude questa invasione della Francia anche questa dimostra l'eccezionale abilità e la competenza è l'efficacia dell'esercito tedesco è un vero e proprio trionfo per la Germania e l'esercito francese che è un enorme esercito moderno organizzato non riesce mai a organizzare un'efficace difesa all'avanzata tedesca un milione e duecentomila prigionieri francesi sono una cifra molto significativa del disastro completo dell'esercito mentre gli inglesi appunto come abbiamo visto vengono ricacciati oltre la manica dopo la battaglia di Dunkirk quindi alla alla fine del 40 quasi tutta l'Europa occidentale o è nazista o ha dei governi che sono filonazisti la Spagna l'Italia che nel frattempo non è ancora entrata in guerra eccetera eccetera torniamo al nostro libro e vediamo come va questa parte la la saltiamo vediamo come va la situazione appunto nel Regno Unito dicevamo nell'estate del 40 tutta l'Europa è sotto il diretto in diretto controllo di Hitler e Hitler sa benissimo che l'unico l'ultimo suo nemico è il Regno Unito prova prova molte volte si è saputo dopo a stipulare un trattato di pace con gli inglesi infatti la situazione di guerra ha un periodo di stallo Hitler sembra fermo sulle sue posizioni ma gli inglesi ripetutamente rifiutano di stringere accordi con il regime nazista allora Hitler che nel frattempo aveva conquistato comunque la Danimarca e la Svezia e la Norvegia e mi viene in mente il regime fantoccio di un colonnello si chiamava Vidutun Quisling che è ancora oggi il simbolo del tradimento di alcuni norvegesi nei confronti del loro popolo vi dicevo quindi Hitler dopo questo iniziale tentennamento decide capisce che non c'è modo di fare la pace con l'Inghilterra e decide di attaccarla Conia il prepara lui e i suoi generali preparano il piano di invasione che viene chiamato il piano leone marino che prevedeva l'invasione delle isole britanniche attraverso il canale della Manica cosa bisognava fare però prima dovevano annientare la flotta aerea del Regno Unito che era moderna era capace dotata di piloti molto abili molto giovani molto agguerriti e la Luftwaffe l'aeronautica tedesca comincia in questo periodo una serie interminabile di devastanti bombardamenti contro le maggiori città inglesi e contro soprattutto gli aeroporti inglesi cosa succede però succede che vi ho preparato ecco ah scusate ragazzi un piccolo passo indietro me lo stavo dimenticando giusto una curiosità quando finisce l'invasione della Francia quindi la Francia diventa tutta questa qui diventa una zona occupata dei nazisti questa qui viola invece è una zona sotto il governo collaborazionista della Repubblica di Vichy guidata dal generale Petain collaborazionista come diceva il video vuol dire che aiuta i nazisti il generale Petain è uno di quelli che organizza rastrellamenti degli ebrei da poi portare ad Auschwitz e quindi collabora attivamente con gli invasori nazisti vi dicevo ecco una curiosità Hitler pretende che la pace meglio la capitolazione la sconfitta della Francia venga firmata su questo vagone qui che è un vagone molto simbolico perché è il vagone sul quale al termine della prima guerra mondiale i tedeschi avevano firmato l'armistizio con tutte quelle clausole Capestro il trattato di Versailles eccetera che ne derivarono vedete qui Hitler parla con i suoi uomini prima della firma e questo sullo sfondo è il vagone dove era appunto stato firmato l'armistizio della prima guerra mondiale quindi una grandissima rivincita per Hitler dicevo torniamo a noi in Inghilterra si sta svolgendo allora questa battaglia in cui i nazisti che si sentono i più forti attaccano attaccano disperatamente con gli aerei bombe su bombe sugli aeroporti e sulle città e sulle città tedesche buonanotte inglesi ecco questo è un osservatore una vedetta su un tetto di Londra che osserva il cielo in attesa delle incursioni della Luftwaffe questo è Winston Churchill di cui abbiamo parlato prima questi sono gli aerei della Luftwaffe pronti a scaricare le bombe questo è Goering che comandava la Luftwaffe era stato un abilissimo pilota nella prima guerra mondiale e questo è Hag Dohding che è il comandante in capo della RAF della Royal Air Force quindi dell'aeronautica inglese ma a noi interessa soprattutto perché è l'uomo che ha praticamente vinto la battaglia di Inghilterra in che modo ha messo a punto un sistema estremamente efficiente di segnalazione immaginate siamo nel 40 quindi non c'erano i satelliti come siamo abituati a vedere noi c'erano appunto i binocoli e gli inglesi con la loro superiorità tecnologica avevano già i radar quindi il radar in effetti è stata un'innovazione tecnica che è stata abilmente sfruttata da quest'uomo con tutta una serie poi di vedette come abbiamo visto prima di comunicazioni linee telefoniche centrali operative eccetera eccetera che permise all'Inghilterra di intercettare fino all'80% dell'incursione degli aerei tedeschi e far fronte appunto a questi attacchi eccoli qui gli aerei tedeschi pronti a scaricare le bombe un aereo tedesco abbattuto ecco questo che vedete è il raggio d'azione dei radar dei radar inglesi e quindi i tedeschi che soffrivano tra l'altro di una scarsissima quantità di informazioni affidabili attendibili sulla situazione inglese sulla disposizione delle forze inglesi degli aeroporti eccetera eccetera i tedeschi si spaccano la testa per dei mesi attaccando l'Inghilterra a un certo punto mettono l'Inghilterra con le spalle al muro nel senso che quasi tutti gli aeroporti inglesi sono inutilizzabili perché bombardati ma i tedeschi non lo sanno appunto per questa scarsità di informazioni di cui soffrono stanno per vincere la battaglia ma non lo sanno e decidono repentinamente di cambiare strategia decidono di cominciare una guerra terroristica bombardando le città inglesi in questo modo anche a causa delle perdite civili inglesi i militari possono ricostruire la loro flotta riorganizzarla rimettere in sesto gli aeroporti e riorganizzarsi appunto per respingere l'invasione tedesca questi sono degli sfollati inglesi nella metropolitana di Londra che aspettano il bombardamento e si proteggono sottoterra questo è un aereo tedesco pronto a bombardare visi del fuoco londinesi vi indugge un po' su queste foto perché sono un episodio importantissimo e famosissimo della seconda guerra mondiale questa è Londra semidistrutta dopo i bombardamenti torniamo pure al nostro libro e quindi questo piano leone marino fallisce tra l'altro il fatto che comunque l'Inghilterra sia un'isola e che riesca a respingere l'invasione tedesca permette a molti governi di fuoriusciti di perseguitati dal regime nazista di ricostituirsi a Londra ad esempio il governo francese il governo francese che è scappato anche lui a Dunkirk si rifugia a Londra viene assistito dagli inglesi e il presidente in esilio Charles de Gaulle con un discorso anche questo famosissimo che lancia la radio il 18 giugno chiama tutti i francesi alla resistenza contro l'invasore e cosa dice immaginate ragazzi c'è l'intensità emotiva di quei giorni di quelle settimane il tuo paese è stato invaso a un certo punto dalla radio una voce gracchiante distorta ma riconoscibile che dice di essere il tuo presidente che è in esilio ti dice credete a me che vi parlo per conoscenza di causa e che vi dico che nulla è perso per la Francia gli stessi mezzi che ci hanno vinto possono un giorno portare alla vittoria perché la Francia non è sola essa non è sola essa non è sola ha dietro di sé un grande impero può far blocco con l'impero britannico che domina il mare e che continua la lotta qualsiasi cosa capiti la fiamma della resistenza francese non deve spegnersi e non si spegnerà quindi sono sempre quasi commoventi questi questi discorsi perché ci immaginiamo nelle cantine nei solai nei salotti francesi di quel di quel periodo di quei giorni l'emozione che può aver provocato un discorso del gene qui intanto un'altra immagine della Londra bombardata l'Italia intanto cosa fa ve ne ha già parlato il professor Barbero nella conferenza io non sto tanto a farla lunga ma Hitler si aspetta dopo il patto d'acciaio che l'Italia entra in guerra a fianco della Germania l'Italia tentenna per alcuni giorni il regime è molto spaventato dalla prospettiva perché sa anche se ogni tanto gli conviene insomma fanno finto di non saperlo che l'esercito italiano è un esercito molto mal organizzato privo privo di comandanti capaci privo di mezzi moderni privo di investimenti avevano appena fatto la guerra di Etiopia poi la guerra di Spagna e le guerre lo sappiamo costano delle cifre spaventose al termine di queste guerre l'Italia ha un impero coloniale ma ha anche una voragine nei conti pubblici non ci sono più soldi per comprare nulla figuriamoci nuove armi quindi l'esercito italiano è un esercito assolutamente vecchio per questo periodo e allora Mussolini non vuole dire di no a Hitler perché insomma ha paura anche della brutta figura e delle ritorsioni e si inventa una scusa ve l'ho segnata qui magari ve l'ha ricordata la conferenza cioè dice a Hitler guardi Führer noi vorremmo tanto scendere in guerra a fianco della Germania ma abbiamo una grande scarsità di materie prime se lei può fornirci tutte queste materie prime di cui abbiamo bisogno nel giro di pochi mesi noi possiamo costruire le armi possiamo rimettere in sesto l'esercito e possiamo dare manforte all'esercito tedesco e quindi il regime invia in questa situazione abbastanza comica a Hitler un elenco del materiale che dovrebbe servire all'Italia per rimettere in sesto l'esercito questa lista famosissima è una lista sterminata viene passata la storia come la lista del molibdeno perché gli italiani chiedevano ai tedeschi eccola qui la lista del molibdeno il documento originale chiedevano i tedeschi una quantità sterminata di materiale in 12 mesi oltre a quello che abbiamo dobbiamo avere 6.000 tonnellate di carbone 2.000 tonnellate di acciaio 7.000 di petrolio poi legno rame nitrato di sodio sali potassici colofono gomma tuololo e poi piombo stagno nichelio molibde è stato calcolato che è stato calcolato che se davvero la Germania avesse inviato tutto quel materiale all'Italia sarebbero occorsi qualcosa come eccolo qui 17.000 treni per spedire tutto il materiale indicato nella lista quindi Hitler insomma mangia la foglia capisce che sull'Italia non ci si può contare poi in privato gli storici dicono che ha uno scoppio d'ira che l'Italia è la solita traditrice che si comporta esattamente come nella prima guerra mondiale ricordate quando era rimasta fuori per i primi tempi perché avrebbe dovuto scendere in guerra con l'Austria e invece l'ha tradita e è sceso in guerra a fianco della Francia e dell'Inghilterra ma comunque l'Italia per il momento è fuori dai giochi nel frattempo Hitler passa il 39 passa il 40 conquista la Polonia conquista la Francia insomma sembra inarrestabile sembra inarrestabile e alla fine il duce decide di entrare in guerra a fianco di Hitler della Germania è il 10 giugno 1940 quando dal balcone di piazza Venezia Mussolini tiene un discorso sciagurato un discorso carico di conseguenze devastanti per il nostro paese annuncia l'ingresso in guerra a fianco della Germania le cronache ci dicono che la folla che assisteva al discorso era poco entusiasta gli attivisti insomma le camicie nere cercavano di intonare degli slogan di far applaudire di più la gente di riempire gli spazi vuoti perché non c'era abbastanza gente a piazza Venezia ma fu tutto abbastanza inutile la gente nonostante la propaganda nonostante il duce in persona con i microfoni sul balcone sapeva istintivamente che la guerra per il popolo comune significa sofferenza e significa miseria comunque l'Italia entra in guerra e noi sappiamo dai diari del ministro degli esteri Ciano il genero di Mussolini quello che ha sposato sua figlia che l'idea era di essere pronti a fare anche noi la nostra parte di bottino di potersi sedere poi al tavolo dei vincitori con una manciata di morti da buttare sul tavolo per rivendicare che ne so la Dalmazia che non ci avevano dato nella prima guerra mondiale l'Egitto un'altra parte del Nord Africa e tante altre belle cose che potevano accadere in quei primi mesi del 40 l'Italia allora si getta a capofitto in guerra e cerca di condurre una guerra indipendente dalla Germania cioè la Germania ha attaccato la Polonia ha attaccato la Francia sta attaccando l'Inghilterra noi rivolgiamo le nostre mire su che cosa? perché non sull'Egitto perché non sulla Francia perché non ad esempio in Albania o in Grecia ad esempio il primo atto di guerra italiano è l'attacco alla Francia la Francia che stava capitolando sotto le martellate della Luftwaffe e della Wehrmacht nel Nord questo fu un inizio della guerra molto problematico per l'Italia e anche molto infelice perché? perché all'opinione pubblica internazionale sembrò un gesto inaudito attaccare un paese che era pesantemente già sotto attacco dalla Germania e che stava capitolando rapidamente si parlò di si disse che l'Italia stava accoltellando un uomo morente comunque anche se quest'uomo cioè l'esercito francese è morente riesce a fronteggiare gli attacchi italiani l'Italia fatica moltissimo ad avanzare alla fine tutto si conclude con scarsissimi guadagni territoriali pensate che di tutta questa storia l'Italia ci guadagna soltanto la città di Mentone poi cosa succede beh le mire si spostano all'Egitto l'Egitto che era inglese per farvi capire ragazzi eccolo qui questa è l'Italia questa è la Libia che era italiana almeno la costa e poi l'idea di Mussolini era vabbè ma noi ci prendiamo l'Egitto poi andiamo su giù nel Sudan e ci colleghiamo con l'Etiopia e la Somalia che già sono nostri poi potremmo anche prendere questa parte qui che è la Dalmazia l'Albania è già roba più o meno nostra e poi c'è anche la Grecia in modo da creare un vasto impero italiano vedete che va dalle Alpi al Corno d'Africa e al Kenya praticamente il progetto estremamente ambizioso ma assolutamente l'esercito italiano non aveva le spalle per affrontare un compito così arlu gli italiani dalla Libia invadono l'Egitto ma in Egitto ci sono gli inglesi che li respingono senza grossi problemi torniamo al nostro libro ecco e le truppe italiane devono accettare il soccorso dei tedeschi che devono mettere in piedi un un'armata che si chiama Corpo Africano gli Africa Corps guidati da un generale famosissimo il generale Rommel che andrà ad aiutare gli italiani e a tenere testa all'esercito inglese e quindi in Africa del Nord in Nordafrica si apre un fronte di guerra gli italiani vengono ributtati in Libia in fretta e furia ma intervengono i tedeschi a dargli manforte stessa situazione si ripete in Grecia gli italiani decidono di invadere la Grecia utilizzando le basi italiane nell'Albania italiana al motto di al grido di spezzeremo le rene alla Grecia quello che urlò Mussolini dal balcone ma l'invasione della Grecia è un'invasione catastrofica catastrofica innanzitutto ecco innanzitutto viene vi faccio vedere qualche immagine ecco questa è la campagna di Grecia gli italiani in Grecia vengono inviati verso la fine di autunno quindi un periodo infelice per la guerra perché in Grecia nevica non c'è soltanto il mare in Grecia nevica poi non capirono come organizzare la logistica cioè un esercito ha bisogno di migliaia e migliaia di tonnellate ogni giorno di cibo munizioni medicinali carburante eccetera 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 migliaia di tonnellate il gli italiani non riuscivano a spedirle queste tonnellate leggiamo per andare anche nel dettaglio di alcune cose e capire un po' le ragioni della sconfitta non basta dire gli italiani sono andati in Grecia e sono stati sconfitti perché le forze italiane iniziarono una campagna invernale su un terreno montuoso senza un adeguato occupaggiamento da montagne carenti si rivelarono infatti cappotti e scarponi a causa degli scadenti materiali autarchici con cui erano realizzati certo vi ricordate c'era l'autarchia e quindi non si poteva comprare la gomma per le suole ad esempio le suole si facevano con il cartone con la carta pressata e ovviamente nel fango e nella neve immaginate quanto possono durare quindi congelamenti eccetera eccetera con un sistema logistico insufficiente servivano infatti 10.000 tonnellate di rifornimenti giornalieri i due porti principali di Durazzi di Valona avevano al massimo 3.500 tonnellate al giorno di capienza e quindi non potevano sopportare tutte le navi che arrivavano dall'Italia cariche di cibo medicinali autocari eccetera 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 poi c'erano grossi problemi di trasmissioni non si potevano parlare gli italiani in Albania e gli italiani in Italia le stazioni di radio funzionavano con difficoltà nel clima umido e freddo e i collegamenti telefonici tra l'Italia e l'Albania erano insufficienti quindi finisce malissimo questa invasione Hitler vede come stanno capisce subito come stanno andando le cose e cosa fa decide di invadere la la Serbia e la Slovenia la Serbia eccetera eccetera insomma i Balcani scendere fino in Albania e poi invadere la Grecia nel giro di poche settimane Hitler toglie le castagne dal fuoco a Mussolini ma si conclude tutto con un'enorme friguraccia da parte dell'Italia che deve rinunciare a qualunque velleità di guidare una propria guerra di avere il fisico per guidare da sé la propria guerra ma si rivela un alleato anche molto scadente molto mal equipaggiato molto mal organizzato dell'esercito appunto più grande e più potente del mondo l'esercito tedesco e poi l'Etiopia l'Etiopia viene ripresa dalle troppe inglesi che nel 41 senza troppo sforzo occupano tutta l'Etiopia e fanno il loro ingresso ad Addis Abeba che è la capitale quindi resumendo ragazzi l'Italia cerca di invadere la Francia e trova un muro cerca di invadere l'Egitto viene cacciata dagli inglesi e deve accettare il soccorso dei tedeschi stessa cosa cerca di invadere la Grecia viene cacciata dai greci e deve aspettare l'aiuto dei tedeschi e poi non riesce a difendere l'Etiopia che viene occupata dalle truppe inglesi quindi questa è la situazione alla fine del 41 un'Europa quasi totalmente nazista resiste soltanto l'Inghilterra la Germania sta vincendo dappertutto a man bassa e gli italiani hanno rimediato una sonora figuraccia a livello internazionale poi però c'è la svolta nel conflitto la Germania attacca l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti entrano in guerra ecco l'operazione Barbarossa la Germania che aveva dovuto rinunciare al progetto di invadere il Regno Unito è l'operazione Leone Marino ed essendosi ormai impossessata di tutta l'Europa centrale decide di dirigere le sue mire espansionistiche verso Oriente per allargare ancora il suo spazio vitale che era uno dei cardini dell'ideologia nazista ce la ricordiamo questa cosa sebbene avesse firmato un patto in un'aggressione come l'Unione Sovietica Hitler ritenne che fosse giunto il momento di attaccare quello Stato che anche dal punto di vista ideologico era il suo nemico naturale e quindi il 22 giugno del 41 di rinizio appunto quest'operazione barbarossa contro l'Unione Sovietica la guerra a Lampo rapidamente porta l'esercito quasi a Mosca ecco qui vediamo la situazione dell'Europa vedete Germania Francia tutta roba l'Italia ovviamente e la Spagna sono alleati resiste il Regno Unito e nel 41 Hitler decide di invadere l'Unione Sovietica invade l'Unione Sovietica vuol dire 3 milioni e mezzo di soldati più armati aerei tutto quello che abbiamo visto prima che marciano incolonnati nelle infinite steppe asiatiche e russe eccola qui questa è l'immagine del primo giorno dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica poi scusate ecco c'era un altro paio di foto e volevo mostrarvi ecco qui i piani d'attacco verso l'Unione Sovietica i tedeschi che invadono anche la Jugoslavia e va bene poi ecco queste qui sono scene ecco i soldati sovietici che si preparano intanto però a difendere le le città più importanti come Leningrado e altre e poi vabbè non lo trovo più ragazzi andiamo avanti era soltanto un approfondimento sull'esercito russo allora dicevamo vi ricordate tra l'altro questa invasione ricorda molto l'invasione delle truppe napoleoniche nel 1812 Stalin per affrontare i tedeschi decide di rispolverare la tattica già usata nel 1812 e che questa tattica si chiama la tattica della terra bruciata magari ve la ricordate i russi possono bruciare tutto quello che i tedeschi stanno per incontrare quindi villaggi granai rifornimenti eccetera eccetera e arretrare sempre più a est nella vastissima steppa russa quindi i tedeschi si trovano man mano sempre più lontani da casa e impossibilitati a trovare rifornimenti nei territori che conquistano perché appunto man mano che conquistano i villaggi le città eccetera trovano che è tutto bruciato in questa invasione è da ricordare che anche l'Italia dà una mano ai tedeschi viene costituita la ARMIR che è l'acronimo di armata italiana in Russia che conta di circa 200.000 uomini e che aiuta appunto i tedeschi nell'invasione della Russia ma poi vedremo che farà una bruttissima fine una bruttissima fine perché venne poi sterminata dalla controffensiva sovietica quindi 3 milioni e mezzo di soldati si riservano si riversano in Russia i primi mesi di guerra per la Russia sono tremendi l'armata le armate tedesche affondano nel territorio russo come un coltello nel burro in pochi mesi appunto arrivano fino a Mosca gli storici si sono a lungo domandati come mai questa debacle questa sconfitta questa figuraccia dell'esercito russo dell'armata rossa i motivi sono forse un paio il primo motivo è sicuramente che l'armata rossa aveva perso i suoi generali migliori per ricordare Stalin era un dittatore paranoico fondamentalmente temendo che i generali complottassero contro di lui li aveva fatti eliminare o pensionati quasi tutti il 90% dei generali dell'armata rossa era di fresca nomina occupava quel posto da uno o due anni e non avevano come si dice il mestiere per portare avanti per portare avanti quella guerra il secondo problema probabilmente è che l'armata rossa era un'armata che si era sempre sentita più forte dell'avversario quindi era sempre schierata in attacco un po' come una squadra di calcio che si sente più forte e mette cinque sei attaccanti e due difensori e quindi è sbilanciata l'esercito tedesco affonda appunto come una lama nel burro taglia molto presto i rifornimenti all'esercito russo che deve capitolare vengono presi milioni di prigionieri in questi primi mesi russi da parte dell'esercito tedesco comunque nonostante questo nonostante questi successi iniziali il piano di Hitler è molto debole ed è viziato da un grandissimo errore di di strategia di valutazione Hitler e i nazisti non avevano considerato la potenza produttiva militare anche ideologica della Russia a un certo punto di questa operazione barbarossa non capiscono più niente tedeschi dicono ma possibile ma noi abbiamo distrutto tutte le armate russe che conoscevamo di cui conoscevamo l'esistenza e i russi continuano a arrivare a migliaia a migliaia e non si fermano mai sembra appunto un un paese inesauribile pensate che le grandi industrie che c'erano in questa zona Kiev vedendo intorno di mosche eccetera prima dell'arrivo dei tedeschi vengono smontate caricate sui treni e portate in Siberia delle fabbriche intere immaginate un po' sbontate e in poche settimane trasferite in Siberia dove ovviamente lontane dei bombardamenti dei tedeschi continuano a sfornare cari armati artiglieria fucili armi eccetera eccetera in più se vogliamo dirla tutta per essere pignoli e noiosi come al solito la Russia aveva anche una grande riserva di soldati in Siberia che Stalin teneva lì perché non lo sapeva lui se il Giappone avrebbe attaccato l'Unione Sovietica oppure noia quindi per sicurezza li teneva lì a un certo punto una sua spia una spia comunista in Giappone a Tokyo che si chiamava Richard Sorge riesce a ottenere l'informazione che il Giappone non ha nessuna intenzione di attaccare l'Unione Sovietica Orge quindi telegrafa in un modo ricambolesco questa notizia a Stalin Stalin anche confrontando altre fonti ci crede capisce che può liberare queste forze immense che teneva in Siberia per sicurezza e riversarle sul fronte occidentale quello verso la Germania e quindi ecco anche questo è il motivo per cui l'Unione Sovietica alla fine ha la meglio perché può disporre di una quantità di materie prime di fabbriche messe in salvo dei bombardamenti di riserve di soldati che la Germania non poteva assicurare non poteva assicurare anche perché la distanza cioè guardate un po' da Germania fin dove arrivano le armate tedesche praticamente siamo qui sotto c'è ragazzi qui sotto c'è l'Iraq ok sono migliaia di chilometri di strade fangose tra l'altro poi altro avvenimento fondamentale del 41 abbiamo detto il primo avvenimento la pessima idea di Hitler di invadere l'Unione Sovietica questa sottovalutazione delle forze sovietiche seconda notizia bomba del 41 l'attacco dei giapponesi a Perla Arbor i giapponesi vi ho preparato un'immaginetta qui ecco i giapponesi scusate avevano mire espansionistiche lo sappiamo avevano fatto una mezza guerra non dichiarata nel 39 in Manciuria con l'Unione Sovietica avevano occupato la Cina avevano occupato anche l'Indonesia insomma volevano creare un impero il grande nemico qual era? eccolo qui gli Stati Uniti ancora oggi come allora il controllo del Pacifico vuol dire il controllo di mezzo mondo ok chi controlla il Pacifico ha le chiavi di una metà del mondo anche la metà del mondo più ricca produttivamente parlando Stati Uniti e Asia il Giappone allora pianifica un attacco proditorio proditorio significa un attacco ingiustificato un attacco non dichiarato a tradimento contro le isole contro Perla Arbor Perla Arbor si trova qui alle isole Hawaii come mai alle Hawaii basta guardare la cartina per questo che ve l'ho trovata Giappone Pacifico Stati Uniti le Hawaii sono proprio in mezzo contate anche che a quei tempi ma anche oggi avere delle isole delle stazioni dove gli aerei possono atterrare rifornirsi ripartire è fondamentale per controllare un territorio così vasto ok quindi tutte queste isolette che sulla cartina a noi sembrano insignificanti al limite delle belle fotografie da mettere sul desktop o delle belle vacanze da progettare per il viaggio di nozze Hawaii le isole Midway le isole qui il Borneo eccetera eccetera in realtà sono degli obiettivi strategici di primaria importanza per il controllo del Pacifico e quindi torniamo a noi ecco il 7 dicembre 41 un altro fatto clamoroso la flotta giapponese l'aviazione giapponese attacca la base americana di Pearl Harbor distruggendo in poche ore quasi tutta la flotta americana allora gli Stati Uniti che fino a quel momento erano un paese isolazionista dicevano noi con le guerre degli europei non vogliamo avere niente a che fare al limite possiamo aiutare gli inglesi con prestiti con rifornimenti con armi ma niente di più non vale la pena che il prezioso sangue degli americani venga versato in paesi stranieri perché dovremmo morire per la Francia perché dovremmo morire per l'Europa in realtà poi questo questo atto prodittorio appunto l'attacco a Pearl Harbor convince l'opinione pubblica e la politica americana a intervenire con tutta la sua potenza militare e produttiva nel secondo conflitto mondiale questo è un momento cruciale del conflitto assolutamente perché appunto gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone e scatta il solito gioco delle alleanze il Giappone era alleato di Germania e Italia e quindi anche Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti la guerra diventa sempre più mondiale sempre più mondiale ok poi questa è una battaglia quella di cui ci parla il nostro libro fondamentale torniamo con la mappa all'invasione tedesca in Russia i russi stanno resistendo con molta fatica e la battaglia decisiva si svolge in questa città qui Stalingrado che è una città che oggi si chiama Volgograd appunto sul Volga diventa una battaglia decisiva per tanti motivi che poi vedremo diciamo che qui Hitler e Stalin si affrontano in una lotta all'ultimo sangue i generali tedeschi e generali sovietici hanno un ordine ben preciso non si può fare un passo indietro nemmeno se la situazione è disperata a un certo punto per i tedeschi la situazione diventa disperata il generale Paulus che era il comandante dell'armata tedesca chiede a Hitler se si può appunto arrendere i sovietici l'ordine è no dovete morire sul campo perché Stalingrado è chiaro a tutti a quell'epoca che è la chiave di volta del conflitto se l'armata rossa fosse stata sconfitta a Stalingrado si sarebbe aperte le porte per Hitler per l'esercito tedesco ai pozzi di petrolio del Medio Oriente e all'invasione del sud della Russia e quindi ci sarebbe stato più poco da fare per Stalin una volta conquistata la Russia poi tutto il resto sarebbe stata questione soltanto di mesi o anni ma non ci sarebbero state grandi possibilità per gli alleati di fronteggiare Hitler oramai che si era liberato da Stalin Stalin capisce benissimo la stessa cosa che questa è una guerra una battaglia all'ultimo sangue che cedere Stalingrado che cedere Volgograd significa cedere l'impero russo ai nazisti e per questo che Stalingrado diventa una battaglia così famosa vengono scritte canzoni libri racconti grandi interviste e diventa una una delle pagine epiche della storia russa della storia sovietica ma anche della storia mondiale quando Stalin sconfisse Hitler ecco la prima grande sconfitta di Hitler è appunto lì a Stalingrado e poi il libro ci dice che nel frattempo in Europa si sta organizzando la resistenza cioè persone che come diceva il filmato non vogliono avere niente a che fare con il rastrellamento gli ebrei gli estermini i nazisti i fascisti eccetera eccetera ma vivono nelle cantine rischiano la pelle tutti i giorni e resistono sabotando eh sabotando gli eserciti invasori un importante ruolo per coordinare e anche tirare un po' su di morale la resistenza europea è quello svolto da Radio Londra Radio Londra è una radio clandestina che viene ascoltata nelle cantine nelle soffitte di tutta Europa di nascosto a bassissimo volume e Radio Londra diffonde notizie sull'andamento della guerra Radio Londra perché veniva trasmessa da Londra che era ancora una città libera eh non falsata dalla propaganda nazista e sollevava il morale delle truppe spesso inoltre Radio Londra usavano linguaggi in codice per comunicare luoghi e tempi in cui sarebbero svolte operazioni militari degli alleati eh Churchill a Radio Londra in questo eh pronunciò il discorso una parte del discorso che abbiamo sentito prima bene ragazzi eh diciamo che finisce qui la il primo capitolo la prima parte della seconda guerra mondiale eh siamo arrivati a pagina 264 di compito non vi do nulla perché mi sembra che siate già abbastanza impegnati e frastornati da quello che succede eh l'unica cosa però che dove non è che vi consiglio dovete fare è ascoltare questa conferenza qui vi metto poi il link dura poco è 33 minuti è molto più fruibile e gradevole delle mie lezioni ed è la conferenza del professor Barbero appunto sulla battaglia di Stalingrado così si può parlare per una mezz'oretta di un argomento specifico e vedere che poi la storia è molto interessante se uno ha il tempo di approfondire un aspetto specifico e non deve parlare in un'oretta di due anni dei primi due anni della seconda guerra mondiale bene vi ringrazio molto per l'attenzione ragazzi buon lavoro e arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto